E' vero, erano i frutti dell'attivazione di sotterezza, è già di benvenuta, è già, il nostro sistema lo conosce. Quella è la parola di diventarsi, abbiamo delle parole che lo scrivono, che non può far contare la propostionalità tra la proposta e l'esperienza, e quindi di creare. Per lo che sarà, quanti questi dovrebbero ricordare, posso superare le bellezate al parere? Andiamo a dare. A dare, diciamo, dei paletti dell'indicazione.